Iscrizioni regolarmente effettuate ma il piano di zona non apre l'asilo nido. Indignazione a Sansa per la decisione assunta dal responsabile del piano sociale di zona Antonio Florio che ritenendo esigue il numero di bambini che sono stati iscritti regolarmente già a partire dai primi giorni di settembre ha deciso di non dare inizio alle attività. Sono 14 bambini che ad oggi risultano iscritti all'asilo nido di Sansa rispondendo all'apertura delle iscrizioni del primo settembre. Famiglie quindi che hanno già versato la retta per l'iscrizione certi di poter usufruire di un servizio importante per chi lavora e non ha la possibilità di occuparsi dei piccoli e per gli stessi bambini che con l'asilo nido hanno un primo approccio importantissimo per la loro crescita con la fase relazionale intessendo i primi rapporti con i loro coetanei. Un servizio che mentre nel resto d'Italia si cerca di rafforzare nel Vallo di Diano a quanto pare nonostante un gran parlare per ridurre lo spopolamento dei piccoli centri dovuto anche all'assenza di servizi essenziali si vuole ridurre. 14 bimbi a Sansa sono pochi per il piano di zona che ha valutato seriamente di non attivare il servizio una decisione che il sindaco Vittorio Esposito non è disposto ad accettare passivamente ed è pronto a dare battaglia. In primis voglio dire che praticamente Antonio Florio si rifiuta di aprire l'asilo nido a stanza perché ritiene che il numero non sia congruo. Voglio far presente che l'anno scorso siamo partiti con gli stessi numeri e oggi però la direttiva è quella per i piccoli comuni di dare priorità agli asili nido e di aprirli anche con numeri esigui perché è un servizio e essendo un servizio il piano di zona deve fare questo. Io se fossi in Antonio Florio mi preoccuperei di recuperare le somme di quei comuni che non hanno pagato, forse mai pagato, le spettanze al piano di zona. Visto che noi siamo un comune virtuoso e abbiamo pagato sempre, sempre e siamo forse l'unico comune che ha pagato regolarmente le quote mi attiverò per far sì che si faccia chiarezza anche su questo punto e da domani sarà guerra totale al piano di zona.